bentornati amici sovteristi e soft gunner come sempre questo è airsoft caesar io sono caesar e oggi vi presento i miei nuovi acquisti per l'autunno in questo caso tutti marchiati jayna tactics allora tanto per cominciare la jayna tactics è un marchio che fa equipment milspec una marca russa veramente secondo me ottima come soprattutto il rapporto qualità prezzo la marca ovviamente il rivenditore ufficiale è il nostro grande sponsor del canale e ormai amico e fratello omar sarcoli di army soft tire quindi vi lascerò il link in descrizione sia del suo sito sia della pagina facebook della jayna tactics così anche voi la potete conoscere meglio come la sto diciamo conoscendo ed apprezzando anche io come prima cosa ci spostiamo più sulla parte ora atax come vedete sono due mimetiche della comunque degli eserciti russi perché ci stiamo un po spostando con la squadra su quello perché facciamo sempre sempre più eventi proprio interpretando le fazioni russi in questo caso eventi milsim ho preso in atax fg ho preso un baseball cap con tracto style con un sacco di velcri dove poter attaccare bandiere dispositivi stroboier e vari identificativi molto carino come vedete tutto ripstop e marchiato jayna tactics quindi questo qui è il marchio che potete vedere questo qui è il marchio della jayna tactics molto molto carino e ora andiamo a vedere un pochino il resto come pant ho optato per dei combat pant la jayna tactics fa dei combat pant molto buoni oltretutto ne fa due versioni la combat classica e poi fa questo fa il modello che loro chiamano raptor che praticamente per chi è un po più ferrato sull'equipement ricorda i pant i combat pant della ufpro poi si vedrete poi se andrete sul sito di omar li ha e poi li ha anche il sito originale proprio il sito della jayna tactics ufficiale la cosa bella della jayna tactics soprattutto per i giocatori corpulenti come il sottoscritto è che fa delle taglie dei combat pant veramente molto molto grandi c'è va molto su con le taglie addirittura fino alla 70 che però non è è una 70 europea quindi sono ma sono tagli europei quindi vestano meno delle taglie americane e leggermente più di quelle asiatiche come stile di combat pant è un genera è una vecchia generazione perché come potete vedere ora se ve li apro non hanno non ha le parti elastiche né sopra alla ginocchiera quindi né in zona della coscia né nella zona posteriore come si vede invece nei combat pant diciamo più moderni però ha una bellissima imbottitura nella parte posteriore della vita le ginocchiere potete anche scegliere il colore della ginocchiera quando andate ad acquistare il pant con ginocchiera verde coyote foglia sgrim e nera quindi veramente tutte tutte le possibilità di personalizzarvi il pant con queste ginocchiere poi fondamentalmente a livello di tasche non cambia niente abbiamo la tasca questa a livello della coscia con il bungee per regolare l'altezza della ginocchiera regolazioni della ginocchiera con del semplicissimo vecchio e l'unico appunto che mi sento di fare è che chi acquista questi combat pant in taglie piuttosto grandi come me si troverà un combat pant e non in questo caso perché l'ho fatto già modificare da un sarto professionista molto molto largo nella parte della caviglia veramente estremamente largo era una cosa bestiale con la posizione con una regolazione in velcro che non era sufficiente per fare una misura adeguata quindi l'unica cosa che magari dovete fare è intervenire in quel caso soltanto ovviamente i giocatori più corpulenti e un po' più sfortunati fra parentesi come il sottoscritto quindi più o meno questi qui erano i pant in atax fg quindi combat pant in atax fg li mettiamo da parte insieme a il baseball cap che questa qui è diventata diciamo la nostra mimetica di squadra quindi molto molto carina e poi andiamo a vedere la parte diciamo più interessante che è una bella una bellissima mimetica partisan l'ho acquistata diciamo per giocate quasi più invernali che autunnali ho acquistato un bellissimo bonny hat jungle in partisan a cui ho tolto già una fila praticamente per la visiera perché era eccessivamente grande è molto comodo è una bella cosa abbiamo qui sempre il suo marchetto genetattics e ha anche un bungee per per averlo sempre ben saldo e fisso sulla testa molto molto ganso poi ho acquistato un parca non ho acquistato una vera e propria tactical shirt ma avevo già una vecchia bdu partisan originale quindi utilizzerò quella in giocate diciamo con climi più consoni qui invece per climi invernali ho acquistato questo parca molto bello che ora ve lo faccio vedere aperto eccolo qua come vedete è un parca di taglio abbastanza classico abbiamo la regolazione sulla vita tramite i bungee abbiamo quattro tasconi due nella parte inferiore del parca e due diciamo nella parte pettorale con accesso laterale tramite delle comodissime zip quindi veramente ottimi poi invece abbiamo una cosa un po più moderna che sono le tasche omerali con velcro per applicare patch identificative del paese e quant'altro molto molto utili devo dire quindi questo è un taglio di parca veramente buono perché è un taglio molto classico che secondo me è molto bello come i vecchi smoke inglesi ha un taglio molto classico ma ha delle accorgimenti più moderni che secondo me lo valorizzano poi abbiamo chiusura con vecchi e un bel cernierone ykk lo potete vedere aperto su due lati il lato inferiore è apribile anche quello posteriore si può chiudere praticamente fino in cima ad avere quasi metà viso coperto abbiamo un bel cappuccio con una parte superiore rigida che serviva anche per non farsi buttare giù il cappuccio dalla neve e è veramente molto bello ora ve lo apro per farvi vedere anche come è dentro non è imbottito quindi diciamo che non para più di tanto il freddo non è molto come vedete non ha imbottiture termiche o tecniche come che ne so come parca moderni anche fatti per situazioni invernali con grandi freddi però è veramente ottimo un'altra cosa che devo sottolineare della genna tactics è che non fa soltanto combat punt ma fa anche classici bdu e anche non fa solo combat shirt ma anche jacket normali quindi se non vi piace la parte combat delle mimetiche potete scegliere delle mimetiche normalissime bdu che sono molto molto convenienti questo è all'interno con la nostra etichettina sempre igiene tactics è molto comodo l'ho già provato mi sta veramente bene mi sta perfetto come taglia posso metterci dentro posso metterci sopra dei pile sotto scusate dei pile o delle giacche termiche in modo da portarlo anche in stagioni ancora più fredde e poi diciamo che siamo arrivati alla fine del nostro parca per farvelo vedere ah una cosa che mi sono scordato molto utile è che nella parte posteriore abbiamo una tasca a tutta larghezza del parca nella zona posteriore dove possiamo riporre veramente un sacco di cose oggetti lunghi mappe possiamo mettere dei pad imbottiti se dobbiamo bivaccare quindi veramente molto utile e abbiamo delle tasche sempre con il cerniarone nella parte finale della manica questa è l'unica cosa che mi ero scordato di dirvi abbiamo anche scerniere sotto le ascelle per la reazione se magari facciamo giocate primaverili dove il tempo cambia rapidamente magari all'inizio abbiamo bisogno dello smoke del parca la mattina e poi invece in fase di pomeriggio il tempo migliore fa anche caldo dopodiché andiamo a vedere il combat punt che sostanzialmente è identico a quello in Atax FG cambia solamente come potete vedere cambia solamente il mimetismo per il resto è uguale veramente molto molto bello molto carino sicuramente lo sfrutterò e anche io in fondo l'ho fatto diciamo restringere da un sarto professionista e per portarlo diciamo a una larghezza crai per intenderci bene il video era finito con le mie proposte per l'autunno se vi è piaciuto il video ovviamente aiutatemi sostenetemi con un bel like commentate se avete bisogno di informazioni comunque lascerò tutti i link in descrizione e ovviamente sto studiando un bellissimo setup da presentarvi spero in tempi brevi proprio qui sul canale per farvi vedere un po' come ho come ho studiato questi setup per giocare che non sono né premetto non sono per il reenacting o altro ma sono soltanto per giocare e per partecipare ad eventi milsim un po' vi snocciolo per finire un po' di prezzi i cappelli siamo intorno ai 20-25 euro i pantaloni i combat pant siamo intorno ai 100 euro e per il park intorno alle 150 euro i prezzi sono indicativi perché sono arrivati veramente adesso adesso ad Omar e a me li ha consegnati questi che li avevo ordinati ancora neanche glielo pagati te li pagherò Omar stai tranquillo quindi deve fare tutti i prezzi al pubblico e mettere i link sul sito spero lo abbia già fatto per il resto non ho altro da dirvi se non darvi appuntamento a un prossimo video e salutarvi a tutti e farvi ridarvi un caloroso bentornato sul mio canale ciao a tutti grazie a tutti